ma buongiorno basta che te ne vede ma buongiorno ma buongiorno sto cazzo fermete dio cazzo nooo ma volevo vedere se erano resistenti tu te l'hai arrivato il coglione ma perchè mannaggia al santissimo oh ma va è il bar no ma questo è il bar bisogna vederla per bene perchè a giro del culo stanno consultandosi non bestemmia non finita quindi solo un'ammunizione per te alla prossima ve fuori eh capito si si ho capito ma sai che te ne vede ve fuori alla prossima ma chi è sto gatto è sto gatto guardate che pelino che c'è guarda sto gatto lui si chiama sto gatto si 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 eccolo o no di qualcosa dal gattino o no qualcosa ma dai di qualcosa che è piccolo qualcosa di qualcosa dal gattino no o no di qualcosa è tanto bellino questo gattino ebbè vabbè basta che te levi di coglione bro ah ma insomma vuoi venire annoiato a me ma non ne dice niente ma io mi sono stato calma calma per bene mi vuole di niente dai gatti ma tanto di coglione il gatto il cane il sorce tutto vede levi di coglione ma tanto di coglione ma tanto di coglione ma tanto di coglione